Questo 13 e domani 14 novembre presso il centro congressi Marconi di Alcamo, quinto meeting per sugellare un'importantissima collaborazione a 360 gradi di tutto il sistema sangue della regione siciliana. Ne faranno parte sia federate che associazioni. In tal senso anche la FIDAS di Alcamo ricopre un ruolo di primo piano. Per voi le interviste. Questo quinto meeting FIDAS Sicilia vuole essere un'occasione di incontro e di confronto fra tutti gli attori del sistema sangue in Sicilia. Dalle associazioni alle istituzioni dei servizi trasfusionali ai referenti istituzionali del centro regionale sangue. Un'occasione importante per mettere a fuoco quelle che sono le problematiche, le criticità ma anche le prospettive di crescita del sistema sangue in Sicilia. Sappiamo come nonostante i progressi degli ultimi anni ancora l'autosufficienza sangue in Sicilia non è stata raggiunta. O almeno non abbiamo raggiunto quella autosufficienza dinamica che ci consente in tutti i periodi dell'anno di poter soddisfare le esigenze trasfusionali che provengono dalle nostre strutture sanitarie. Ecco allora che attraverso il confronto, l'incontro, l'approfondimento di quelle che sono le criticità ma anche cogliere i suggerimenti per la crescita del nostro sistema possiamo guardare al futuro con maggiore speranza. Veniamo fuori da un momento difficilissimo. Il Covid ci ha segnato tutti, ha registrato anche modalità diverse di approccio alla donazione del sangue. E devo dire che fra tutte le criticità il sistema sangue è quello che forse ha retto perché è basato appunto su quello spirito di volontariato che anima appunto i donatori. Ecco c'è bisogno di crescere ancora, c'è bisogno di responsabilizzare ancora di più la popolazione, soprattutto i giovani per avvicinarsi a questo gesto che è un gesto semplice ma di grande solidarietà e di grande senso anche di civiltà. Ecco in questi due giorni qua ad Alcomo vogliamo appunto scendere nel concreto di queste problematiche e poi guardare al futuro con maggiore speranza. Noi speriamo sempre che tutto, ripeto, possa normalizzarsi e quindi cercare chiaramente di soccombere a queste criticità che ci sono state per quanto riguarda il Covid-19. Le nostre speranze sono quelle di aumentare sempre il nostro fabbisogno sangue. Sono felice di ospitare questo quinto meeting regionale e cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo come federata di Alcamo per quanto riguarda la raccolta sangue. La quasi totalità delle raccolte di sangue che avvengono in Sicilia sono demandate alle associazioni di volontariato dei donatori di sangue e questa è una grande risorsa perché le associazioni sono presenti in quasi tutti i comuni della Sicilia. Abbiamo 390 comuni e nella straganza maggioranza dei casi sono presenti le associazioni. Per la regione siciliana, per l'assessorato della salute e per tutto il sistema sanitario siciliano questo è fondamentale, sia perché loro hanno il polso, le associazioni hanno il polso della comunità alla quale appartengono, ma la cosa importante è che la popolazione si identifica nell'associazione, nei valori, negli altri valori dell'associazione. Fate conto che il nostro fabbisogno annuale è di 200.000 sacchi di sangue, siamo lì per raggiungere l'autosufficienza. Stiamo cercando di sensibilizzare le nuove generazioni a donare il sangue, quindi abbiamo bisogno di cirenei, un po' come avvenne nella via Crucis, di uomini, di ragazzi che si prendono sulle spalle la sofferenza di altre persone che hanno bisogno del sangue, soprattutto nel periodo estivo. In fondo noi che siamo al centro regionale sangue della regione siciliana, siamo un po' quelli che raccogliamo la speranza di chi vuole donare il sangue, e quindi di chi si vuole sentire utile alla società, al sistema sanitario regionale, ma anche nazionale, e poi la speranza di chi invece queste sacche di sangue li aspetta. È fondamentale in questi casi lavorare tutti insieme per lo stesso ideale. Quello che è fondamentale è servire e non servirsi. Come diceva pure Dorrizzo, che era qui di Alcamo, insomma, che ha fatto grande la storia di Siciliana, e poi a seguire abbiamo avuto anche uno sturzo dall'altro lato della Sicilia.